Buongiorno, ci sono i microfoni delle grandi occasioni. Io ho qualche considerazione a margine di quello che è accaduto, come voi sapete che abbiamo seguito la diretta anche con delle notizie surreali, io stamattina sarei stato all'alba a Palazzo San Giacomo, invece non è così, abbiamo mantenuto le nostre abitudini, abbiamo appreso che ieri sera la Digos della Questura di Napoli ha notificato al Presidente Pasquino, che si trovava in pigiama presso la sua abitazione, la sospensione che poi stamane alle 9.30 il Presidente Pasquino ha avuto la cortesia di notificarmi presso gli uffici del Sindaco. Cominciamo da dire che oggi per me sembrerebbe essere un giorno brutto, invece io penso che è un giorno buono, innanzitutto perché ci siamo, innanzitutto perché viviamo una pagina di dignità, di libertà e di coraggio, quindi non la vivo come un dramma, i drammi nella vita sono altri, la vivo come opportunità per cercare di far comprendere quanta strada ancora il nostro Paese deve fare per evitare che una democrazia malata diventi regime. Nella storia del nostro Paese ci sono stati momenti storici, recenti e meno recenti, dove le persone che non si uniformavano al pensiero unico, dove le persone libere, le persone onestere, le persone coraggiose, sono state fermate in modo violento dal punto di vista fisico. E da tempo, non lo dico ora perché mi è stato notificato un atto ingiusto, grave, sul quale poi dopo mi soffermerò, lo dico da tempo, i servitori dello Stato, quindi le persone che hanno giurato fedeltà alla Costituzione, non persone che hanno scelto altra strada al di fuori delle istituzioni, vengono fermate attraverso l'utilizzo della cosiddetta legalità formale. Chi mi segue da tempo sa che io non uso più il termine legalità, uso il termine giustizia, perché nelle democrazie malate, e l'Italia è una democrazia malata, altrimenti non accade che, io ovviamente parlo di me, ma le storie purtroppo sono diverse nelle istituzioni, persone che hanno il coraggio di fare attività contro un sistema criminale, contro corruzioni, contro mafie, hanno il coraggio di investigare su apparati deviati dello Stato, forze dell'ordine, magistratura, non solo non vengono premiati, non solo non vengono, come dire, sottolineati come esempio di un ordine professionale, ma sono cattivi magistrati. Mi viene da ricordare in questo momento le parole del procuratore generale della Corte di Cassazione che durante l'udienza disciplinare disse di De Magistris possiamo dire tante cose, però un grandissimo lavoratore, anzi lavora troppo, lavora talmente tanto che interpreta il suo lavoro come una missione. Io mi girai vicino al mio avvocato disciplinare e disse, ma allora le cose si mettono bene, lui disse no no, si stanno mettendo male, si stanno mettendo male perché non va bene. Allora di fronte a questi ho capito perfettamente qual è lo strumento che questa democrazia malata intrisa di corruzione, dove le mafie in parte sono diventate istituzione, in cui c'è un cancro che rischia diventare metastasi, che cosa si deve fare? Qualcuno mi ha detto e dice e sostiene che io sto usando toni duri. Guardate, vi assicuro, per quello che ho passato in questi dieci e quindici anni, se io non avessi avuto la granitica certezza che le istituzioni sono la mia vita, che la Costituzione è il mio faro, oltre al Vangelo ma quello è un fatto personale di natura intima, che la Costituzione è la mia strada laica, mai avrei preso un'altra strada con tutto quello che mi è capitato semplicemente per aver fatto il mio dovere. politica, però proprio perché una granitica certezza di essere un uomo delle istituzioni ho avvertito sin dal primo momento che ho giurato alla Costituzione Repubblicana, il primo dicembre 1995, che chi riveste ruoli istituzionali ha il diritto, dovere di denunciare la corruzione, quando la corruzione diventa sempre di più Stato e quando un sistema mafioso lascia la strategia delle bombe per penetrare all'interno delle istituzioni e farsi legalità formale. Non ha più bisogno il mafioso di colludere con la politica, perché rischia di diventare un tutt'uno. Quando la penetrazione della corruzione arriva fino ai gangli anche di apparati deputati al controllo della politica, e penso alla magistratura, alle forze dell'ordine, dove anche crescono segmenti di corruzione, è chiaro che la partita diventa veramente pesante. Allora uno che fa di fronte a questo? Ha una serie di strade. Una strada è abbandonare le istituzioni e scegliere un'altra lotta, una lotta fuori dalle istituzioni. E devo dire che io in questi anni vedo più gente pulita per strada e più gente sporca nelle istituzioni. Quindi la tentazione ce l'ho forte, ce l'ho forte di abbandonare la fase delle istituzioni e seguire un poco il pensiero libero di fari della mia anima intellettuale che sono De Andrè e Ride Luca, tanto per citare due nomi ne potrei citare anche altri. La tentazione è forte, anche guardando negli occhi i miei figli, tanti giovani, che mi chiedono ma allora dobbiamo avere fiducia? E io con tutto quello che ho passato dico sì, dovete avere fiducia perché nello Stato ci sono donne e uomini che sono servitori dello Stato coraggiosi e dobbiamo aiutare loro. Avrei potuto scegliere la strada e la disobbedienza civile. Stamattina veniva Pasquino e gli dicevo caro Presidente, io non la firmo la notifica perché non riconosco l'istituzione, ho firmato. Qualcuno mi dice ti devi dimettere, e no, ma non perché sono legato alla poltrona, perché sta poltrona, signore me, è basante, parte i 15 kg di dimagrimento, è una poltrona piena di guai, piena di problemi, piena di tensioni, piena di rischi, anche personali, perché le dimissioni sono un atto etico che non sono richiesti da questa legalità formale che a certe volte puzza e intrisa di corruzione. Tant'è vero che là si prevede la sospensione. Allora perché mi volete far dimettere? Io mi dimetto se per caso avessi tradito i miei concittadini, ho rubato, sono diventato corrotto, sono diventato mafioso. No, mi condannano, unico caso nella storia della Repubblica italiana per abuso d'ufficio non patrimoniale, perché ho osato fare un decreto perché un vicequestore della Polizia di Stato in un'indagine in cui erano coinvolti vertici anche delle istituzioni del nostro Paese mi dice di acquisire alcune utenze che sono in contatto con criminali. Io le acquisisco perché sono un magistrato e non so di chi sono, appena scopro che sono di parlamentari, mi fermo, non le utilizzo, mi tolgono l'inchiesta, io vengo condannato per questo e io mi dovrei dimettere per questo. Scusate se questa è la strada, ma per me non voglio dire che è una medaglia perché uso un termine che sulla mia pelle, francamente, finire la mia vita terrena con la dicitura pregiudicato vorrei evitare. Però se oggi significa in questo Paese marcio essere pregiudicato perché non mi sono girato dall'altra parte, perché quando stavo nel cuore di quell'inchiesta mi hanno detto lascia perdere, ti trasferiamo a Napoli immediatamente, che è la tua città. Ho detto no, devo portare prima a compimento le inchieste. Lascia perdere, vuoi venire a fare il vice capo del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, 15 mila euro al mese, lascia perdere. E non mi sono girato dall'altra parte. Beh, se questo è il destino di un Paese che non riesce a fare una rivoluzione culturale e liberare lo Stato dalla corruzione che anche esiste, vuol dire che finirò la mia vita terrena con essere anche pregiudicato. Però io ho ancora la consapevolezza, financo la certezza, proprio perché mi sento onesto fino al midollo, mi possono togliere tutto, trovarmi tutti i difetti, tutti i limiti, tutti gli errori e tutte le manchevolezze, ma sono un uomo profondamente onesto sul piano anche intellettuale, ho ancora la certezza e la consapevolezza che altri giudici possano rimediare immediatamente a questo provvedimento rapidissimo del signor prefetto e del signor ministro dell'interno, il più rapido di tutti, addirittura la sera alla Digos, forse pensavano che Pasquino si desse la di tante, che il sindaco potesse scappare, non lo so. Io ho già detto che se non mi trovate non mi sono suicidato, se mi vogliono confinare, voglio Ventotene, dove Fuschetto, anzi Procida, tra Procida e Ventotene, tra Elsa Morante e Altiero Spinelli me la vado a giocare, quindi starò per strada, vivo, vivrò, ci sarò. Di fronte a questo io sono persuaso, convinto e consapevole che altri giudici, quindi lo Stato, lo Stato, lo sottolineo, sapranno rimediare. Così sgombriamo pure il campo, dai toni duri, dal sindaco contro il Presidente della Repubblica, il sindaco contro questo e contro quell'altro. Il sindaco non è contro nessuno. Io sono un uomo libero che non solo dico sempre quello che penso, ho anche segnalato tutte le cose che non andavano, che ho visto con i miei occhi. Vorrei ricordare, per non farla lunga, che ci sono stati dei magistrati della Repubblica italiana, che tra il 2007 e il 2009 hanno aperto 70 procedimenti penali nei miei confronti. Sono stato, come diceva Piercamello da Vigo, svuotato come un calzino, lui lo diceva a proposito di Tangentopoli. Hanno visto conti correnti, intercettazioni, tabula, tutto, e hanno messo penna su carta che io non solo, invito veramente i giornalisti ad andare a rileggere quegli atti, non solo che avevo agito in modo assolutamente corretto, e tra l'altro avevano fatto anche indagini sui tabulati che poi curiosamente Roma ha ripreso senza nemmeno andarsi a rendere conto che Salerno aveva già fatto quell'indagine, quindi c'è una gravissima violazione di legge, vabbè ma su questo non entro nel processo perché lo farò in appello. E hanno detto e individuato quali erano le persone delle istituzioni, compresi magistrati che avevano ordito un'attività criminale pesantissima nei miei confronti. Questi magistrati anche sono stati trasferiti. Io invito qualsiasi giornalista, scrittore ad andare a individuare dall'epoca del dopoguerra a oggi se esiste un altro caso in Italia in cui diversi servitori dello Stato, magistrati, forze dell'ordine, testimoni, sono stati rasi al suolo per aver individuato una rete che governava in modo occulto il nostro Paese e che purtroppo ancora alcune di quelle persone si trovano anche in luoghi decisivi del nostro Paese. Quindi siccome so di aver fatto sempre il mio dovere e non mi dimetto, quindi oggi qual è il quadro? Abbiamo una sospensione che è una certezza, abbiamo l'altra certezza che il sindaco non si dimette e la terza certezza che la sospensione sarà breve. Non sarà lampo come il tempo che è passato tra il tribunale che ha trasmesso il dispositivo, non avendolo trasmesso all'inizio, non ha trasmesso la motivazione, il prefetto dice letta la sentenza, scrive nel provvedimento, non so quale sentenza ha letto perché la sentenza non c'è, non ci sono le motivazioni, il provvedimento è stato lampo, rapido, serale, con polizia giudiziaria, mancavano i corazzieri, l'arma dei carabini, c'era un po' tutto il quadro lampo, quindi non sarà una sospensione così lampo, ma sarà una sospensione che durerà poco tempo. Perché durerà poco tempo? Perché siamo fiduciosi nel ricorsi che attueremo nei prossimi giorni all'autorità giudiziaria e perché il processo d'appello si terrà in breve tempo dal momento in cui il processo è sostanzialmente prescritto, quindi l'imputato condannato in primo grado ha diritto di essere assolto immediatamente nel merito, immediatamente nel merito e da farlo fare subito perché siccome il processo in prossime settimane si prescrive, così come quel processo è durato molto rapidamente, se vi andate a vedere le udienze del processo di Roma scoprirete che è stato trattato quasi come un processo di criminalità organizzata. Quindi anche l'appello, quantomeno per par condicio, deve essere rapidissimo. Quindi dai calcoli che ho fatto con i miei avvocati, non possiamo al massimo, se tutto va male, avremo una sospensione di tre o quattro mesi. Di fronte a questo, e mi avvio alla conclusione, io do queste garanzie alla mia giunta, alla mia maggioranza, al Consiglio Comunale, ai miei concittadini, che io resisto, perché di questo si tratta, di resistere di fronte a un'illegalità formale di dimensioni gigantesche, non mollo, farò il sindaco per strada, come ho detto, starò molto tra la gente, farò tanta attività politica e continuerò formalmente a fare il sindaco perché sono sindaco formalmente, nel senso non posso esercitare le funzioni, non posso firmare, non posso partecipare all'aggiunta, non posso partecipare al Consiglio Comunale, non posso firmare nulla, ma sono sindaco sospeso, ma sempre sindaco sono, quindi farò il sindaco con abiti meno formali e con gli abiti del cittadino sindaco nei prossimi mesi. Quindi questa è un'altra garanzia che do, quindi mi auguro che non continuino le richieste di dimissioni, perché capisco che qualcuno magari ha tempo da perdere, più volte me lo chiedete, più volte io dico che non mi dimetto. E un'altra cosa che invece di cui ha bisogno questa città, che accanto alla resistenza del sindaco nell'interesse della città, perché credo che in questo momento interrompere un'esperienza come questa, che sta dando risultati sempre più significativi e sempre di più li darà la luce dell'uscita dal piano di riequilibrio, possa essere un grave vulnus per la nostra città, credo che sia un grave danno, probabilmente io sul piano personale potrei anche trarne vantaggio a dimettermi a fare le elezioni un'altra volta, ma non mi interessano le questioni di natura personale, di natura politica, quindi c'è bisogno di una giunta compatta, che sappia resistere insieme al sindaco e ha dato prova sinora di farlo, ed ecco perché noi abbiamo deciso e io ho deciso di garantire l'ordinarietà, siccome il sindaco rimango io e la giunta che con il sindaco momentaneamente impedito continua a fare le sue funzioni, come accade quando il sindaco non le può esercitare, in questo caso perché è sospeso, in altri casi perché malato, in altri casi perché sta all'estero, in altri casi che possono comunque capitare. Chiedo alla maggioranza, ma direi a tutto il Consiglio Comunale, di continuare una pagina importante, la maggioranza ha dimostrato una straordinaria capacità politico-istituzionale la notte e la giornata di venerdì, sono state ore per me di grande coraggio e determinazione, se non avessi avuto quella prova avrei potuto pensare che la mia forza, la mia volontà di rimanere potevano essere vane da tentennamenti di altri, invece ho ragione di ritenere che ci sia questa determinazione. Ovviamente c'è bisogno di medesima determinazione, ma anche qui sono fiducioso da parte di tutta la macchina amministrativa, dirigenti, funzionari, dipendenti del comune, delle partecipate, delle municipalità, così come credo che oggi ogni napoletano è chiamato a interrogarsi di qual è la posta della nostra città e vengo all'ultimo punto. Si saldano due cose che sembrano distanti, inseguimenti di poteri che me l'hanno giurata a morte, in questi giorni abbiamo diffuso anche nuovamente una delle tante testimonianze di come determinati apparati dello Stato abbiano deciso di colpire un servitore dello Stato e oggi c'è chi vuole approfittare di questa vicenda personale che non ha nulla a che vedere con l'attività di sindaco, che la Severino non c'era la legge quando io mi sono candidato, anzi quella parte dei napoletani che mi ha votato tra l'altro sapeva pure perfettamente la mia storia di magistrato, la mia schiena dritta, le mie battaglie, quindi oggi si va a saldare una vicenda vecchia con la volontà di molti di rimettere le mani sulla città. Siccome io vedo una dicotomia che mi lascia molto ben sperare, tra la nomenclatura di regime, di regime intendo quel gruppo politico affaristico che vorrebbe rimettere le mani sulla città, che parlano la stessa lingua in modo impressionante, dicono tutti la stessa cosa, di missione, andate a casa, fai questo, fai quell'altro, ci fanno la lezioncina. E le persone che comunque la pensino, anche in modo critico nei confronti del sindaco e dell'amministrazione, hanno capito perfettamente di che stiamo parlando. Allora ecco che bisogna aprire gli occhi, perché segnali inquietanti in queste settimane e in questi mesi li abbiamo visti, da ultimo ne cito uno per tutti i bagnoli. Allora la resistenza oggi nostra, lo dico alle amiche e agli amici di giunta e della maggioranza, in questo caso è la resistenza per continuare l'opera di liberazione della nostra città ed evitare che altri possano mettere le mani sulla città. Quindi un'operazione di libertà e di resistenza e di forza nei confronti di un sistema che vorrebbe rimettere le mani sulla città. Da ultimo, ovviamente, sto seguendo sulle agenzie stamattina questa iniziativa nella città di Napoli, devo dire che almeno questo ringrazio il signor prefetto per la tempestività notturna della notifica del provvedimento, perché almeno mi ha tolto da un imbarazzo istituzionale, devo essere sincero, perché da sindaco di Napoli, ovviamente, da sindaco di Napoli non sospeso, da oggi faccio solidarietà al caffè sospeso, l'ho detto, quindi da oggi cambia un po' lo scenare, da sindaco non sospeso avrei dovuto stringere nuovamente delle mani che certe volte mi pesano e mi riferisco a questi importanti governatori, ai quali forse, siccome avevo preannunciato in questa sala di pregiunta e inizio a avere il dubbio che ci sia qualche cimice, perché avevo detto che volevo fare un discorso politico, nel salutare i governatori, dagli il benvenuto alla città di Napoli, perché ovviamente è una città ospitale, riceviamo tutti e quindi siamo contenti che sia stata scelta Napoli anche per un evento di questo tipo, avrei voluto fare un intervento politico, invitando, come dire, i padroni dell'economia e della politica mondiale di evitare di continuare un'opera, diciamo, di strozzinaggio delle moltitudini di cittadini in tutte le parti del mondo e che soprattutto il sud, di cui Napoli è una capitale importante, soffre, soffre di queste politiche liberiste. E l'avevo detto ai miei amici di Giunta, probabilmente questo ha prodotto, diciamo, un'accelerazione, qualche manina del Sifar, Rex Sifar, si sarà mosso, ha detto fermatelo, prima che fa un discorso ai governatori delle banche centrali generali. Quindi, detto questo, mi auguro che si tirovino bene nella nostra città, che è una città ospitale, solidale, diamo la cittadinanza onoraria ai figli degli immigrati e quindi, come dire, dopo di loro diamo anche il benvenuto ai governatori delle banche centrali. Mi hanno tolto dall'imbarazzo, però ho approfittato di questa nutrita conferenza stampa per dire il mio pensiero, come la penso, sull'economia del nostro mondo. E forse Napoli è anche un'esperienza che distona un po' rispetto al conformismo politico del nostro Paese. Vedo linguaggi sempre più vicini e similari tra forze politiche che dovrebbero essere all'opposizione. Penso al patto del Nazareno e tantissime altre cose. Quindi questa esperienza autonoma, atipica, anomala, un poco anche confusionaria, con mille limiti, con tanti errori, anche un po' anarchica e rivoluzionaria, dà fastidio. Ed ecco questo forse è la ragione principale per cui noi dobbiamo resistere. Da oggi non spetta più soltanto a me, spetta a una giunta, spetta al Consiglio e forse spetta ad ogni napoletano di capire quanto è alta la posta in gioco a Napoli. Quindi io sono certo che vinceremo questa battaglia e spero ancora di poterla vincere all'interno delle istituzioni. Spero un giorno, magari a 60 anni, a 70 anni, a 80 anni, di poter dire ai miei figli che nonostante tutto bisogna avere fiducia nelle istituzioni. Fermo restando che mani brutte e mani corrutte ne ho strette troppe all'interno delle istituzioni e gli occhi che mi stanno dando la forza in questi giorni sono gli occhi di quella gente comune che mi sostenne quando facevo il magistrato a Catanzaro e mi sta sostenendo. Non so che potenza possono avere quegli occhi e quelle mani, però almeno sul piano della coscienza, dell'umanità e del cuore mi sta sostenendo in questi giorni. Quindi il mio ringraziamento va ai tanti napoletani, soprattutto a quelli che non mi hanno votato e che mi hanno stretto la mano, che mi hanno detto che hanno capito la posta in gioco, sanno che sono una persona per bene e che il nostro Paese va sempre di più alla rovescia. A loro porto oggi il mio ringraziamento e l'impegno a non mollare e soprattutto a fare, chiudo su questo, gli interessi della mia città anche oggi, se finora ho lavorato 18 ore al giorno, da domani cercherò di farlo anche la notte, che era l'unico aspetto che avevo lasciato in sospeso, con le 4 ore in cui dormo, magari ribalterò un pochino, dormirò un pochino di più la mattina e girerò un po' più di notte per conoscere ancora meglio la mia città. Quindi fin quando sarò sindaco di Napoli, il mio unico obiettivo sarà la città di Napoli e Napoletania, una città che amo profondamente e che voglio servire fino al maggio del 2016. Grazie.